Parlare in un video non è semplice, però ci proviamo. Sono Mattia Palazzi, ho 36 anni e mi sono candidato alle primarie del centro-sinistra per il sindaco di Mantua. Da molti anni lavoro con le persone, unendo le loro idee, la voglia di fare, l'intraprendenza, il coraggio, anche l'umiltà. E così nascono progetti, servizi, voglia di fare, ma nasce anche l'idea che la città possa cambiare. Ci sono tante città diverse che la politica può costruire. Si può lavorare per una città egoista, chiusa, che vede con diffidenza le idee nuove, che ha paura di ciò che cambia, di ciò che modifica le relazioni di una città. Oppure si può lavorare per una città curiosa, dinamica, una città europea, una città nella quale si premiano le competenze, una città nella quale non importa da dove vieni, di chi sei figlio, ma importa quanto vali, quante voglie di fare, che idee hai. Questa città può essere Mantua, può essere una città che si riconquista un suo ruolo nel mondo, può essere una città curiosa, può essere una città attrattiva, perché abbiamo storia, patrimoni, competenze, valore, tanti cittadini che hanno voglia di costruire questa città. Io ci sto provando, con tante generazioni diverse, e le primarie servono a questo. Servono a esaltare le proposte, ma serve anche ad ascoltare la città, quali sono le proprie paure, qual è la fragilità di una comunità che ha bisogno di ritrovarsi e di ricostruire anche appartenenza. Il 18 gennaio ci sono le primarie del centro-sinistra. Dammi una mano, votami e realizziamo insieme questa impresa. Grazie a tutti.